È il momento di Elisabetta Gregorace a Venezia 78, la parata di VIP in Laguna prosegue con l'arrivo della presentatrice sbarcata al Festival del Cinema di Venezia con il suo sorriso e la carica di follower. Per l'arrivo a Lido la 41enne ha scelto un abito bianco a fantasia firmato Jenny, per il red carpet invece l'ex moglie di Flavio Briatore ha optato per il blu, avvolta in una nuvola elegantissima firmata dallo stilista Mario Dice. Grazie per la visione!